Buongiorno, oggi è lunedì della quarta settimana e ci vogliamo disporre con l'aiuto dello Spirito Santo ad accogliere la parola di Dio nella nostra giornata, nella nostra vita. In quel tempo Gesù disse, io sono il buon pastore, il buon pastore dalla propria vita per le pecore, il mercenario che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde. Perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo greggio, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Gesù utilizza un'immagine molto cara al popolo di Israele, quella del pastore. E attraverso questa immagine possiamo leggere questa pagina di Vangelo su tre dimensioni diverse. La prima è la mia relazione con Dio. Molto spesso nella mia vita faccio esperienza di persone a cui non importa niente di me. Dio è colui invece che si presenta come l'unica persona che non vuole fare interessi su di me, ma io sono il suo unico interesse. Lui si interessa a me. Non è uno che non gli importa di me, come tante volte ho sperimentato nella vita. Ma a lui di me importa. La seconda dimensione è che la pagina di Vangelo di oggi ci permette di andare a guardare, grazie a questi lupi che arrivano ogni tanto nella nostra vita e che ci permettono di vedere meglio la qualità delle relazioni che viviamo con gli altri. coloro che si interessano a me, che gli importa di me, sono coloro che all'arrivo dei lupi non se ne vanno. Queste sono le vere amicizie, questi sono i veri amici, quelli che restano nei momenti di difficoltà. E il Signore è uno di questi. Anche qui molto spesso abbiamo fatto esperienza di restare delusi da amici o persone che pensavamo tali. Il Signore non delude mai. Il Signore resta sempre in quei momenti. E se guardiamo indietro alla nostra storia, vediamo come anche in quei momenti Lui era lì e accompagnava ciascuno di noi ad attraversare, a vivere quel momento così difficile. La terza lettura che possiamo dare è quando nella nostra vita noi passiamo dal sentirci pecore indifesi al diventare lupi rapaci di noi stessi e degli altri. Anche qua il Signore si pone in mezzo a noi per farci riconciliare con quella nostra parte di noi stessi che vuole essere vittima per cercare attenzione e quella parte di noi stessi invece che vuole essere così aggressiva e entrambi i ruoli che tante volte rivestiamo nascono spesso dalla ricerca di attenzione dalla ricerca di affetto nascono da una ferita. Il Signore è colui che si pone in mezzo a queste due dimensioni di noi stessi per farle tornare a dialogare per farle tornare a stare insieme perché Lui è quell'unica forza che unisce e che non disperde. Chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci a fare questa esperienza nella giornata di oggi e a saper guardare indietro alla nostra vita e poter dire come il salmista Il Signore è veramente il mio pastore Il Signore sia con voi Vi benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo Andiamo in pace Grazie a tutti